ecco lo stile domani ragazzi riacci quanti carichi pimpanti arzini nel canale un altro video insieme in cui dobbiamo assolutamente andare a parlare nell'argomento più piccante di oggi cioè la spaccatura ormai insanabile tra calvo uomo scelto da elkan appunto come direttore d'area tecnica e allegri quindi o uno o l'altro e direi speriamo tutti che sia allegri anche se ripeto arrivano ancora conferme ufficiali tra virgolette ufficiali che lui rimane ma solo da sky con gianluca di marzo e carese che sono su amichetti così come paolo di canio e quindi stanno facendo il giochino che va bene ad allegri cioè nel momento dell'incertezza in cui rischia l'esonero perché arrivano del pier giuntoli e sono prossimi all'arrivo e ci auguriamo tutti lui è fuori se questi qui arrivano perché una volta che il ds entra va annunciato o l'esonero la conferma dell'attore parto che saluti ringraziamenti a tutti iscritti ragazzi benvenuti community lo stivello magna raccoglie con un grande abbraccio forte forte un altro casamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto vi seguono con grande passione ardore tra questi tutti i meravigliosi abbonati allora per citarvi anche appunto un estratto riportato da romea gresti di gol.com ha detto le dichiarazioni di allegri non fanno parte del dna juve sono dichiarazioni molto pesanti e per me anche sbagliate ha preso posizione in questa cosa ora è il momento delle decisioni dei faccia faccia quindi ripeto è un giornalista molto autorevole che per lungo tempo ha preferito non dire la sua riguardo la vicenda ma in questa situazione altalenante e diciamo piena di dubbi ok di perplessità ha voluto dare la sua opinione ha voluto mettere il suo marchio e quindi ovviamente non è che si è sbilanciato dicendo è fuori esonerato però ha detto quello che era la realtà cioè c'è la spaccatura tra calvo e allegri insanabile hanno litigato dopo udine e le dichiarazioni non fanno parte del dna quindi la proprietà si è distaccata si è dissociata dallo sputo virtuale che allegra dato la storia della juventus che è veramente è stato emblematico infatti ricordiamoci anche questo che calvo non ha presenziato alla conferenza pre udine si vede di solito andava ai microfoni si faceva intervistare così come nel dopo partita proprio per dimostrare io voglio stare lontano da questo personaggio sperando che la dirigenza capisca ok visto che è stato nominato per fare da tramite tra el can e allegri e prenda le dovute decisioni quindi questo è quanto volevo leggervi anche un articolo appunto di tutto sport per essere più chiari visto che ieri proteggeva allegri dicendo che era confermato ma oggi parla anch'esso di questa spaccatura ok allegri calvo ritroscina dallo scontro udine si parla di scontro e quando i giornalisti comunque autorevole ripeto di spicco e che spesso ci prendono perché hanno azzeccato tutta la trafila della fase di giustizia ordinaria dei tribunali e di quello che sarebbe successo per la che non esplode valenza e quello stipendi e la fine della stagione con la qualificazione in conference lascia sul tavolo i dubbi sulla posizione del tecnico le sue frasi secche e il mercato sono lo specchio della distanza che persiste perché ripeto allegri è stato messo nelle condizioni perfette per poter vincere e lui stesso era convinto di vincere quando aveva quella rosa stellare poi ci siamo accorti tutti che lui non era capace di allestirla e quindi oltre questo ragazzi ripeto allegri arrivato settimo quindi lo dicono tutti quel quarto posto terzo ok davanti all'inter per scontri diretti non è sul campo alla fine perché sul campo vale la classifica di lega serie a questo deve essere chiaro a tutti cioè lui perché mette le mani avanti su questo discorso del quarto e terzo posto virtuale perché è l'unica speranzuccia ancora accesa come un lumicino di candela in un questi due contratti ulteriori fino al 2025 e quindi lui fa le spalle grosse però ieri ha pianto a sky perché ha capito che quei due anni lì non sono così sicuri di essere riconfermati perché la proprietà può decidere di dargli i soldi da lui e lo suo staff e prendere un annatore e quando ha capito quello come lui ha cominciato a sentire il bruciore di dietro ripeto non dico che fuori però insomma dopo quello che è successo potrebbero esserci anche delle dei ribaltoni ecco diciamo così dei ribaltoni cioè delle delle situazioni inequivocabili in cui dall'oggi al domani spunta un comunicato tutti il cavolo l'hanno esonerato ea urrà oppure il contrario dovremmo assorbirci una zecca che continua a prendere le nostre energie per altri due anni e distruggere spaccare la tiposeria e ripeto ragazzi lo dico prima di continuare con l'articolo mi raccomando non abbonatevi non cadete nella esca nella rete per pesci che ha fatto la proprietà in questo momento o che hanno fatto i giornalisti e amici di allegri perché questo momento può essere tutto può essere anche che soltanto sky correde dello sport e gazzetta abbiano cercato di aiutare allegri no per vedere cosa succede sperando che arrivino gli abbonamenti e che dopo la proprietà di a cavolo quanti abbonati che ci sono dai lasciamo allegri va così non ci spremiamo i saluti dell'allenatore loro sperano in questo giochino qua però ripeto con del piero che vola a torino per incontrare el can e giuntoli in telefonata che ha contattato la proprietà della juve cioè ripeto a me sembra strano che confermino allegri cioè se ripeto se lo confermano come dicono tutti e non è perché vogliono andare avanti con lui precisiamo questa cosa non sanno come liberarsi del cosso dei soldi che devono dargli punto è soltanto questo il motivo perché lui è già formalmente esonerato cioè è già sfaccato rispetto ai giocatori e la proprietà è rimasto solo come una specie di di stecco e dentro un campo di grano così diciamo così ecco quindi per fare un esempio salvador da lì genio spagnolo soprattutto pittore ma anche molto altro una volta fece partita dietro quei suoi baffi stilosissimi e stanno in questa frecciata più di tutto mi ricordo il futuro ecco in questa juve da lì non si troverebbe a proprio agio perché il futuro bianconero non è né scritto né designato figuriamoci quindi ricordarlo anche solo immaginarlo proprio così l'universo juventino magmatico più che mai e ora che la stagione si è conclusa dopo mille peripezia almeno il 70 per cento avvenute fuori dal campo mentre la centrifuga inizia a rallentare la propria corsa saltano fuori pezzi di verità che nel vortice si erano mischiati tra loro ed erano quindi difficili e sono impossibili di distinguere nella forma a noi juventini che notiamo tutto e stiamo attenti ai dettagli avevamo già capito tutto già da ottobre con vlaoici spaccatura totale con allegri di maria arrabbiato rabbio che non poteva vedere allegri poi dopo è rimasto insomma le verità c'erano ma non si volevano vedere diciamo così la situazione complicata e articolata al di là delle dichiarazioni di facciata che vengono elargite allegri il post udinese juve a volte a sangue freddo altre volte invece quando è ribollente come domenica sera pochissimi minuti dopo il triplice fischio di Udine quando Messimiliano Allegri nel ventre della Dacia Arena ha spiegato davanti a tutti i microfoni che gli venivano messi davanti al naso e ribadito poi in conferenza stampa che per il mercato bisognava rivolgersi a Calvo i responsabili dell'area tecnica e che lui si metteva a disposizione per poi gestire e allenare al meglio ciò che avrebbe avuto a disposizione a partire dal 10 luglio primo giorno di test e battesimo della prossima stagione nel 2024 tra forme e contenuto del pensiero emergeva in maniera netta e precisa la distanza tra i due ovvero Allegri e Calvo che sarebbe poi il segreto di Pulcinella anche se a Torino sarebbe il caso di cambiare maschera indossare quella di Gianduia ma le maschere meglio lasciarle perdere si usano quando è carnevale si respira nell'aria la voglia di scherzare un esercizio nobile che però non ha delitto di cittadinanza in questo momento storico della Juventus dopo che si è appena messi alle spalle le grande paure per una nuova spinta verso la Serie B quindi ragazzi TuttoSport gira attorno alla questione io vi ho letto l'articolo per rispetto perché dovevo darvi comunque una fonte certa, autorevole ma non è andato in merito al discorso tant'è che ha in qualche modo anche protetto la situazione e l'ha edulcorata, l'ha fatta sembrare più dolce e suave di quella che è dicendo che il 70% dei problemi della Juve di quest'anno vengono da fuori campo ma dove? Che eravamo fuori dalla lotta Scudetto a gennaio eravamo fuori al giorno di Champions a settembre e eravamo dentro solo alla Coppa Italia cioè ripeto ragazzi è difficile comunque dare delle definizioni su questi articoli però almeno per farci idea di quello che si dice e la lotta tra Calvo e Allegri è più dura di quella che si fa credere non è uno scambio di battute, focose e frecciate a distanza cioè questa è proprio una differenza di pensiero, di stile, di eleganza, di mentalità di tutto, Calvo ricordiamolo che ha lavorato alla Roma facendo benissimo e al Barcellona, al Barcellona ha un hype internazionale è un uomo pronto per fare il salto alla nostra Juventus quindi me la voglio immaginare con, beh, è il canale al potere Calvo, direttore della tecnica Scanavine e Ferrero, se rimangono stanno facendo ottimi lavori a livello di contabilità e di tribunale perché si hanno portato fuori da questa burrasca, bisogna dirlo Del Piero è giunto lì e manca solo un allenatore quando parliamo noi, ripeto, sembra, dicono tutti i suoi amichetti che Allegri sia confermato, però continuano insistenti le voci addirittura di un italiano ipotetico nuovo nome da mettere nel calderone insieme, ripeto, a quelli che abbiamo già detto Tiago Motta, Tudor, nella fascia bassa, a livello di ingaggio e Conte e Zidane dall'altra parte che sono i sogni proibiti di tutti i tifosi giuventini Io voglio chiudere il video, per non farlo troppo lungo facendo di nuovo un appello cioè, o noi o Allegri deve essere chiaro infatti io ho visto che tanti youtuber stanno aderendo all'iniziativa di La Bianconera e di tanti altri ragazzi che saluto e che stanno facendo di tutto per il bene della nostra Juve e molto spesso noi veniamo confusi per youtuber che provano in qualche modo a essere anti-juventini perché vogliamo Allegri fuori vogliamo dei cambiamenti in realtà siamo la voce del popolo siamo la voce dei tifosi cioè il 90% dell'Italia quindi, ripeto ragazzi domani ci sarà la campagna abbonamenti occhio alla penna non facciamoci fregare da questi balordi a meno che non abbiano già deciso di cacciare Allegri ok? e lì allora abbonatevi assolutamente se viene fatto il nome di un allenatore tra oggi e domani perfetto stadio vuoto altra iniziativa che dobbiamo fare ok? e poi gli abbonamenti pay tv da evitare perché aiutano sia contro FGC e procura federale che ogni volta che dicevamo si prendevano paura e cominciavano a fare gli accordi sotto banco con Elkan e questo è palese e poi ovviamente non dare i soldi facili con gli abbonamenti cioè piuttosto che andare a guardare la partita a casa per spendere 30-50 euro andate al bar per dire c'è uno solo che paga 100 persone che guardano è un grosso risparmio e soprattutto non diamo soldi a persone che non li utilizzano per migliorare le strutture per migliorare il sistema calcio Italia anzi c'è un gap enorme tra Liga, Bundesliga e Premier League stiamo diventando un campionato basso ok? quest'anno i risultati sportivi si danno ragione ma attenzione perché ci vuono anche le strutture la mentalità il giusto giornalismo il non servilismo altrimenti dimani giù dove sei ditemi la vostra mi raccomando ragazzi un bel pollicione iscrivetevi al canale e attivate la campanella a presto come sempre grazie a esserci un abbraccio forte a me da Nila come sempre prima di chiude vi ricordo iscrivetevi anche al secondo canale qua sotto Calcio World 11 qui in descrizione vedrete sotto il titolo sotto gli hashtag che ho messo il link che vi conduce al canale con il simbolino di Youtube rosso cliccate lì dentro e direttamente verrete scagliati dentro il portale di Calcio World e lì potete scegliere i video che ho messo non ho messo uno anche oggi molto simpatico sulle opinioni di Cassano Dani Ventolevieri di Allegri di creazione che ha fatto dopo l'Udinese e poi Facebook Stivalo Magno scrivetemi anche lì ciao ragazzi